buongiorno questo è l'anteprima dell'appuntamento dedicato all'analisi di mercati e strategie operative siamo insieme a Nicola Para buongiorno Nicola secondo appuntamento con te la prima volta la volta scorsa ci hai portato eh gli open interest e invece di cosa parliamo questa volta? Eh questa volta Pietro vorrei concentrarmi sugli indici perché secondo me potrebbe essere finito questo brutto periodo questi brutti giorni di di discesa a cui alle quali ovviamente non eravamo abituati però con tutti i disclaimer del caso poi analizziamo bene tutto nel dettaglio. Interessante interessante anche perché settembre è stato un mese abbastanza arrabbiato. Molto bene mi chiamo Pietro Froio sono consulente finanziario di Banco BPM e di WeBank e vi invito a seguirci sulla pagina YouTube di WeBank o sul canale Facebook per essere sempre aggiornati sulle nostre dirette. Ci vediamo tra poco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.